Io sono Daniele Segre e lavoro per l'Euteronomy Film Lab in qualità di consulente per la produzione e la distribuzione. Siamo qui al festival in quanto uno dei film selezionati è The Wound di John Tengrove, che è un film sudafricano che è stato sostenuto dal Tornomy Film Lab. Sia nella fase di produzione che nella fase di distribuzione. Il Tornomy Film Lab è un laboratorio di scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione finanziato dalla regione Piemonte del cinema e dal programma Europa Creativa, dell'Unione Europea, che si occupa di sostenere attraverso azioni di training e di finanziamento progetti tendenzialmente art house con difficoltà di circolazione commerciale e quindi l'azione del Tornomy Film Lab da un lato sulla fase di scrittura che poi porta a un finanziamento della produzione e dall'altro sulla fase di distribuzione da un sostegno fattivo anche finanziario per cercare di aumentare le possibilità sia di produzione e di circolazione del film. Allora, con la mia società di produzione Revis Film, effettivamente noi abbiamo iniziato, abbiamo cominciato a lavorare sulla produzione di cortometraggi e quindi abbiamo frequentato, anche per scopare nuovi talenti, festival di cortometraggi, sia sul territorio come Piemonte Movie, ma anche siamo stati in vari festival in Italia come a Dancona, a Corto d'Orico, siamo stati a Trieste, quindi abbiamo viaggiato parecchi sia per far scouting che per confrontarsi anche con autori e quindi assolutamente dal nostro punto di vista da produttore anche per la ricerca di nuovi talenti effettivamente il rapporto con i festival è molto importante, soprattutto per la parte di cortometraggi, può anche essere per i lungometraggi, in futuro se noi stiamo lavorando su un lungometraggio e quindi con un regista che abbiamo scoperto con i suoi cortometraggi ai vari festival, quindi il punto di vista del produttore, diciamo, in questi festival è importante, anche perché vi avete privilegiato, nel senso che c'è la possibilità di poter in due o tre giorni potersi vedere tantissimi film, confrontarsi, incontrare autori, e sicuramente è molto positivo.